Il mondo del design da quando ho iniziato a lavorare, quasi due decadi fa, è cambiato molto. Si è passati dal disegnare prodotti a disegnare esperienze per gli utenti finali. Credo che adesso fare il designer sia probabilmente più complicato di quando ho iniziato io. Bisogna veramente essere aperti a tante sfaccettature. Non esiste più il mondo del design fisico che è scollegato dal mondo del design digitale. Non esiste un design senza pensare alla customer experience che si vuole raggiungere. È molto importante avere questa apertura ai vari aspetti del design, quindi non essere settoriali ma essere molto aperti. E per me è anche molto importante essere curiosi, andare a leggere, andare a informarsi, andare a vedere nuove tecnologie, nuovi modi anche del design process. Il mio dipartimento è quello che copre tutta la parte di design di Pini Farina Extra. In questo momento stiamo coprendo diversi verticals che vanno dalla nautica ai progetti di transportation, quindi treni, aerei, ai progetti ovviamente di industrial design puro, progetti sportivi. Quindi il nostro ufficio è un ufficio open space. La decisione proprio di tenerlo così aperto è proprio perché si vuole creare interazione tra i designer. Si cerca di rendere tutti partecipi e comunque di far conoscere i progetti che sono in svolgimento a ogni persona del team, anche se non stanno lavorando su quel progetto specifico, perché qualcuno può avere delle idee, può avere dei suggerimenti. Sono Nicola e sono il design manager di Pini Farina Extra. Grazie a tutti.